Fino a fine mese, almeno, l'Abruzzo resta arancione. Nessuna novità per la nostra regione dopo la cabina di regia settimanale che valuta l'incidenza del virus in ambito nazionale e regionale. L'RT in Italia scende dopo 5 settimane di aumento sotto la fatidica soglia dell'1 e si attesta di poco sopra lo 0,9. Questo quanto è emerso dagli ultimi dati resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità, che vede l'Abruzzo invece di poco sopra questa soglia. Con un'RT a 1,05 l'Abruzzo, dunque, rimarrà in zona arancione almeno fino a fine mese. Assieme all'Abruzzo rimarranno arancioni Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta, Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Nella tabella dell'andamento delle varie regioni è il Molise ad avere l'RT più alto a livello nazionale attestandosi a 1,38. Questa regione, insieme all'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, il Piemonte, la provincia autonoma di Bolzano, la Puglia, la Sicilia, l'Umbria e la Valle d'Aosta, ha un RT sopra l'1, mentre il resto delle regioni è di poco sotto, con lo 0,76 della campagna come il migliore dato a livello nazionale. Dunque sarà confermata la zona arancione, anche se la nostra regione è considerata tra quelle a rischio basso. La classificazione del rischio viene stilata considerando, tra l'altro, l'incidenza per 100.000 abitanti, nuovi casi segnalati nella settimana, il trend settimanale con i focolai, se in aumento o in diminuzione, stima RT puntuale, esistenza di zone rosse, valutazione della probabilità e d'impatto, allerte sulla resilienza dei servizi sanitari territoriali.